Il Luserna di Tatiana Zorri fa il miracolo, la squadra piemontese vince a Bari e conquista una storica salvezza. Il Luserna è l'unica neopromossa che riesce a mantenere la Serie A. Le padrone di casa sfiorano per primo il vantaggio, Serafino salva in angolo. Il Luserna passa in vantaggio con Alessia Dancona che trova il gol che sblocca la partita e porta le piemontesi sull'1-0 superando Fazio. Nella ripresa il Bari sfiora il pari ma non riesce a impegnare Serafino. Dall'altra parte Luserna prova a colpire quando può per chiudere la partita. A due dal novantesimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Mazzucchetti. La palla arriva a Veronica Cantoro che trova lo spiraglio giusto, il pallone si insacca vicino al palo e batte Fazio per il 2-0. È il gol che chiude la sfida e che vale la salvezza per il Luserna. Esplode la gioia delle ragazze del Luserna per una rete fondamentale. Nel finale il Bari ci prova ancora per accorciare. Serafino para al fischio finale. Festa per il Luserna per la salvezza conquistata. Le emozioni sono tantissime. È stato un finale di campionato incredibile. Devo fare un applauso a tutte le ragazze, a tutto lo staff e alla società la quale ha creduto nel risultato fino alla fine e si è visto. Per cui non possiamo essere che orgogliosi di quello che noi abbiamo fatto come prima stagione in Serie A. L'obiettivo di quest'anno era la salvezza che abbiamo ottenuto. Sa già dirvi qual è quello del prossimo anno o è ancora presto? Penso che sia un po' presto parlare. Adesso dobbiamo solamente goderci il risultato, dobbiamo riposarci, anche se abbiamo già iniziato a lavorare per capire cosa fare per il futuro. Ci sono tanti obiettivi messi sulla carta che dobbiamo perseguire. Tra cui la prima cosa è riuscire a trovare una casa fissa. In questo momento continuiamo a essere sballottati da una parte all'altra. Siamo dei nomadi. Questo non va bene perché non dà alla società e alle ragazze il senso di appartenenza ad un luogo. Per cui il primo obiettivo è quello di riuscire a trovare una casa nostra. Per il resto con tutto lo staff ci sederemo a tavolino e cercheremo di tirare le somme di quello che è stato e di quello che dovremo andare a fare e affrontare. Se da una parte c'è stato l'obiettivo della salvezza della prima squadra, abbiamo anche un altro obiettivo importante che è quello che sta cercando di ottenere la primavera. Questo è un altro bel capitolo della nostra attività e abbiamo fatto bene con la primavera. Adesso c'è la fase finale e ci auguriamo a tutti di portare a casa dei risultati. Comunque vada, per noi è già una vittoria aver ottenuto quello che abbiamo ottenuto. Per cui le ragazze sono consapevoli di questo, devono andare tranquille in campo e fare il proprio dovere. Tutto quello che viene da adesso in avanti è qualcosa in più rispetto a quello che c'eravamo prefissato.